Anche Estra si è fermata al binario zero della stazione di Bibbiena. Lo ha fatto per consegnare all'amministrazione comunale e al progetto due bici elettriche. Estra continua a sostenere le ottime progettualità delle amministrazioni, in questo caso del sindaco di Bibbiena che ha voluto valorizzare il suo progetto sul binario zero con questi due mezzi, due mezzi elettrici che sono anche un segnale importante per indicare una via nuova allo sviluppo economico anche in un territorio bellissimo come questo dove è importante la montagna e il parco. E questo mezzo così dolce, così performante anche per chi non ha una poderosa forza fisica può consentire a tanti di godere in maniera sostenibile di questo ambiente meraviglioso. Binario zero è un progetto che propone azioni innovative nel quartiere e nel territorio casentinese come il porterato sociale di quartiere, la promozione di prodotti tipici del territorio e delle sue specificità. Abbiamo ristrutturato la stazione ferroviaria di Bibbiena che è il centro del Casentino facendoci un punto di informazione turistica oltre che un ostello per i pellegrini proprio perché la ciclopista dell'Arno e dell'Archiano passa proprio qui vicino alla stazione di Bibbiena quindi il punto centrale di arrivo per i turisti in Casentino che troveranno questo punto di informazione e ostello. Oltre a questo oggi, altra giornata importante, l'inaugurazione di due bici elettriche quindi a pedalata assistita donate da Estra quindi una collaborazione importante dopo le ulteriori due biciclette mountain bike donate un anno e mezzo fa sempre al nostro comune che sono nel centro storico che vengono molto utilizzate da turisti quindi delle scelte importanti di investimento e di collaborazione che vanno nell'ottica del turismo ecosostenibile che per il Casentino ovviamente è il turismo principale da sviluppare.